La situazione dell'economia del territorio resta difficile, ma si intravede la fine del tunnel. Alcuni segnali, tutti da confermare nei prossimi mesi, fanno presupporre che la caduta si sia finalmente fermata. Nel complesso, però, non sono incoraggianti i dati dell'indagine congiunturale sulla situazione economica della provincia di Rimini, effettuata dall'Ufficio Economico di Confindustria a Rimini e relativa ai dati consuntivi del primo semestre e alle previsioni del secondo semestre 2013. Sia a livello centrale che locale, spiega Paolo Maggioli, presidente di Confindustria a Rimini, occorrono un sostegno maggiore alle imprese, meno pressione fiscale e meno burocrazia, nonché pagamenti certi da parte delle pubbliche amministrazioni. Teniamo conto che siamo, rispetto ai livelli pre-crisi, a un meno 8,9%. Se dovessimo pensare di recuperare una situazione come questa, per ritornare a quei livelli, con la crescita prevista, speriamo, nel 2014, si parla del 0,5-0,7%, ci vorrebbero 10 anni. E sono anni che le aziende non possono più aspettare obiettivamente, perché vengono danni di sofferenza e diventa veramente dura e difficile. Noi abbiamo dei bilanci comunali della provincia, dove sostanzialmente è trascurato totalmente il discorso della manifattura e il discorso dell'industria. Il settore che in questo momento sta più crescendo, sta più soffrendo evidentemente, perché viene da questi anni di sofferenza, è il settore dell'edilizia, con la filiera che si porta dietro, che è una filiera enorme. Rimini si è dotato di un piano strategico, credo sia importante sapere, per l'opinione pubblica e per noi operatori nel tessuto economico, questo piano strategico che tempi ha. Focalizzandoci sulle aziende, il confronto tra il primo semestre 2012 e quello 2013 ha fatto emergere una diminuzione del fatturato totale dello 0,40%, mentre l'occupazione è calata di 2,56 punti percentuali. Le ore lavorative segnano un meno 44% e le aziende associate a Confindustria sono passate da 520 a 430. Gli unici fattori positivi sono dati dagli investimenti di alcune aziende e dalla crescita di alcune di esse, a fronte della crisi di alcune aziende storiche del territorio.